Grazie a tutti. No, io o loro, dobbiamo fare le cose, dobbiamo fare la registrazione. Gregorio! Saluta Gregorio! Qualcuno vuole dire qualche cosa? Qualcuno vuole dire qualche cosa? In Domenica ci ritroviamo qua. Ma che bella squadra! Scusate, non aprite l'impresa. Fareste i soldi, fareste. Scusate, ci siamo, ci siamo! Qualcuno vuole dire qualche altra cosa? Qualcuno vuole dire qualche cosa? Vuole dire qualche cosa? Che siete sempre qua? Tu vuole dire qualche cosa? No, ma che dire? Ma come? È bella festa oggi, no? Eh, là ci sono gli indossati, ma da cuore. No, ma io mi ricordo, non i capi che non ci parlo. Io parlo con le persone. Tu si è preso un bagno di scarpe, l'hai visto che è bello? Se si scarpe è quella tua, per lavoro buona. No, anche per uscire sono buone. Sono i bambini che sono felicissimi, che hanno preso le bici. Le bici si sono prese dalla spazzatura, l'andiamo a intervistare. No, il bambino non ci può intervistare. No, il bambino non ci può intervistare. Aspetta, aspetta, aspetta. Non c'è niente. Non c'è niente. Allora, ti devo chiamare, signora. Vabbè, non tornate più? Vero? Vissi, metterlo dopo, dopo sì. A me dopo ci vuole. Siamo, spazzia. Va bene, grazie. Ti ho bisogno. Ti ho bisogno. Gaetano, al volo, cosa è successo e perché? No, diciamo che abbiamo previsto già delle giornate di questo tipo per far sì che le persone abbiano l'opportunità di potersi disfare di tutti gli ingombranti che rimangono in casa. Ne abbiamo fatto una il 22 maggio, l'abbiamo voluta ripetere oggi, il 23 settembre, per far sì che alcuni comportamenti incivili che vediamo quotidianamente ripetersi e vediamo quindi chiaramente i marciapiedi di tutte le nostre strade riempirsi di materiale che potrebbe essere conferito in maniera corretta. Abbiamo deciso di organizzare di queste giornate affinché la gente possa conferire correttamente tutto quello che c'è da smaltire. Chiaramente è un fenomeno che andrebbe legato al centro comunale di raccolta, ci stiamo lavorando con una certa attenzione, speriamo entro il prossimo mese di avere un centro comunale di raccolta per far sì che le persone, anche in assenza di queste giornate, possano trovare un posto dove conferire tutto quello che non si può smaltire in maniera ordinaria. Cosa? Cosa che non funziona? Previso. No, no, previso che funziona. Si vede, ma si è sempre visto così. Si, perché la sintonizzazione non è buona. Probabile. È in Samsung. Paolo. Paolo, hai beccato, c'è poi il telecomando. Paolo è uno, Paolo è due. Ha giudicato. Paolo è tre. Paolo è tre. E se il mese prossimo sarà di hoppa. No, tu no. No, prega, quattro. Biciclette, quattro ne hai? No, qua, già, già, ria, tu ne hai qua. Ah, no, a noi, oh. Sì, è televisore? Sì, è televisore che videoregistratore. Che pensi? Che si scoppiano? Grappa, io la ditta, una mi stavo salutando, una pezza. Forza. È che così si imbenna, più bella deve essere. Dilla qualche cosa nel frattempo. Vivo a Gaetano Leonardi. Attende a filo. Dilla qualche cosa nel frattempo. Ringraziamo l'assessore Gaetano Leonardi, che grazie a questa iniziativa ha permesso di liberare il mio sottoscala, che era pieno da oltre 24 mesi. Buono. Buono. Suona. Suona. Avanti, la potete buttare, buttate la... Nastri di chi è? Di chi sono questi nastri? Divas Live. Non lo conosco, l'altro? Five. Andrea, ma che musica ascolta? Esatto. Andrea, che musica ascolti? Divas Live. Sì. Com'è, buona? Perfetta. Ci mi dia? Un pochino sì. Vabbè, è giusto, se gli fa il terremoto. Va bene, buona, giudicata. Giudicata. A me sta cosa lì quando caricano... No, 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 no. 45 una volta, forse. Ok. Fotografiamo? Sì, ma appena alzano lo scarabili, chi ti arriva al terreno? Sì, ma appena alzano lo scarabili. Sì. 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 Grazie a tutti